Partita oggi a Roseto degli Abruzzi, la campagna L'Italia Vincente, iniziativa di Fratelli d'Italia per illustrare ai cittadini i dieci mesi del governo Meloni. L'Italia Vincente è lo slogan ideato per la campagna di Fratelli d'Italia, presentata dagli onorevoli Giovanni Donzelli, responsabile nazionale dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, Fabio Roscani, presidente nazionale di Gioventù Nazionale e dal coordinatore provinciale Marinera Rossi, insieme a tanti amministratori e simpatizzanti. Sì, oggi parte da Roseto la grande maratona di Fratelli d'Italia della provincia di Teramo, perché qui la politica non va in vacanza e quindi da Roseto, poi Pineto, Giulianova, Silvi, faremo le maratone in tutte le serate, in tutti i giorni per contattare la gente, per il ben fatto del governo Meloni. Stiamo cambiando l'Italia, ovviamente abbiamo la consapevolezza che serve del tempo, abbiamo questi cinque anni a disposizione, il primo è quasi già passato, ma sono già molte le cose fatte per rilanciare l'economia, per difendere il lavoro, abbiamo tolto il reddito di cittadinanza, abbiamo dato una mano alla legalità, abbiamo fatto una battaglia importante contro la mafia per il 41bis, abbiamo ridato un po' di fiato alle imprese, al lavoro e anche al tempo stesso abbiamo aiutato chi ha difficoltà ad arrivare alla fine del mese con dei buoni per aiutarli a fare la spesa quotidiana visto l'aumento dei prezzi. Saranno tante le cose ancora da fare, le faremo con calma ma determinazione, non ci faremo condizionare dalle critiche degli altri. Stiamo raccontando appunto in tutte le località turistiche d'Italia, oltre 500 gazebbe in tutta Italia, dai luoghi di mare, montagna, le città d'arte, con i ragazzi di gioventù nazionale, i nostri parlamentari, i ministri, i sindaci, gli assessori, quelli che sono stati i principali obiettivi centrati dal governo Meloni in questi primi dieci mesi. Penso all'aumento dei soldi in busta paga grazie al taglio del cuneo fiscale, all'aumento delle pensioni minime, alla diminuzione della disoccupazione, in particolare quella giovanile e femminile, al rinnovato ruolo di centralità nello scenario internazionale dell'Italia. Tutto questo grazie al governo Meloni, sono tante le cose che vogliamo ancora mettere in campo per ridare centralità all'Italia, ridare dignità alla nostra nazione dopo anni di mal governo del centro-sinistra. Quindi ci troverete in tutte le località d'Italia, anche con dei momenti di sbago e relax, nei nostri volantini che si intitolano l'impegno del governo Meloni, tutto per l'Italia, l'Italia torna vincente, ci sono anche dei cruciverba tricolori per un momento di leggerezza in questa nostra estate italiana. I rappresentanti del partito del presidente Meloni poi hanno percorso le vie del mercato locale distribuendo il pieghevole con gli obiettivi raggiunti, scambiando pareri e opinioni con i tanti cittadini presenti.